L'usciame sismico legato al fenomeno del bradisismo che sta interessando ormai da giorni l'area dei campi Flegrei ha avuto un rallentamento ma non si è fermato. Lo ha spiegato il direttore dell'osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Mauro Di Vito, ormai in servizio 24 ore su 24 nella sala operativa. La sismicità sta continuando però è molto diminuita nelle ultime ore. L'ultimo evento non si vede nemmeno a monito. Magnitudo piccola, magnitudo che via via stanno diminuendo e anche la frequenza di terremoti sta diminuendo. Il suolo continua a deformarsi con la velocità di 2 cm al mese. Tutti i fattori indicativi classici del fenomeno continuano a manifestarsi e dunque è impossibile prevedere se per quanto tempo lo sciame sismico proseguirà. È logico attendersi comunque altri terremoti anche se è bene dirlo di magnitudine media seppur superficiali per cui distintamente avvertiti dalla popolazione. La crosta continua a deformarsi e tutti gli altri indicatori ci dicono che il fenomeno è in progressione. Quindi c'è anche un incremento del numero di terremoti, c'è stato un incremento di velocità quindi il fenomeno sta leggermente aumentando. In queste ore la rete di controllo è stata estesa anche ad aree meno attenzionate. In particolare i sub si sono immersi nelle prime ore del mattino nelle acque del Golfo di Pozzuoli a sud di Montenuovo. Qui la fuoriuscita di Gastele, cosiddette Fumose, l'apparato vulcanico formatosi in pochi giorni a fine settembre, primi di ottobre del 1538 è un termometro di quello che sta accadendo. C'è una nostra attenzione proprio sulla parte anche, quel pezzo di caldera che è nascosta dal mare, la parte sottomarina. Stiamo intensificando anche i controlli in quell'area. In aree che sono anche famose per il degassamento, le fumose cosiddette a sud di Montenuovo si chiamano così proprio per il degassamento che è stato sempre osservato. C'è una nostra attenzione per avere un quadro complessivo di quella che è la dinamica del sistema in generale.